Bene amici, oggi scopriamo insieme l'Italbolts Stinger 28GT, un battello con una lunghezza fuoritutto di 7,99 m e una larghezza di 3,20 m con tubalari gonfi ma perfettamente carrellabile da sgonfio. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dal motore, motore che vede una potenza minima installabile a partire da 300 CV fino ad arrivare a un massimo di una singola da 450 CV ma è disponibile anche una coppia da 200 CV o da 2 da 225 CV. All'interno della plancetta dritta si trova questa comoda vasca di raccolta per gli oggetti bagnati, c'è anche una maniglia tinti bene qui presente nella porzione posteriore, mentre nella plancetta controlaterale si trova la scaletta di risalita scomparsa, in questo modo il piano di calpestio è libero da ingombri e c'è anche in questo caso la maniglia tinti bene per agevolare l'uscita dall'acqua. È possibile inoltre passeggiare tranquillamente da un lato all'altro perché guardate la distanza è ridotta, l'ingombro del pozzetto motore è ridotto al minimo, c'è questa striscia rivestita in eva foam che permette di assicurare un ottimo grip per ridurre al minimo la manutenzione. Non manca la doppia galloccia su entrambi i lati per l'ormeggio a scomparsa, qui c'è il tappo di imbarco del serbatoio del carburante, mentre dall'altro lato si trova la doccetta per il risciacquo nella zona di poppa. All'interno delle masse in vetroese invece ci sono questi comodi portelli che sono profondissimi, guardate qui occupano l'intera profondità della mastra quindi è molto comodo per nascondere oggetti come esempio anche canne da pesca oppure fucili per la pesca subacua. Poco più avanti troviamo il divanetto in pozzetto, divanetto a forma DC con schienale lineare che può essere abbattuto verso poppa per avere un prendisole più ampio e quindi aumentare ancora di più l'area relax. In più al di sotto della seduta centrale c'è un gavone dedicato al vano tecnico, vano con batterie, impianti, pompa di sentina e serbatoio delle acque nere, mentre ai lati si trovano dei comodi gavoni, guardate qui anche gavoni con coperchi controstampati, molto comodi per aumentare lo spazio di stivaggio. In più guardate il movimento a bordo è comodissimo perché il pozzetto è libero da ingombri con predisposizione centrale per inserire una base fissa e creare un tavolo per una dinette di poppa oppure rimuovere la base e poggiare la prolunga con un cuscino e avere un unico grande prendisole che occupa l'intera larghezza interna del battello. Inoltre l'area relax è assicurata grazie alla presenza del tendalino. Abbiamo il roll bar in vetroresina in questo allestimento con doppio archetto per ombreggiare tutta la porzione di poppa fino alla console con possibilità di estenderlo anche posteriormente e quindi ombreggiare l'intera area posteriore. Poco più avanti si trova il blocco seduta, blocco seduta in vetroresina con alle spalle il vano cucina, vano cucina in questo caso fornito di serie con lavello e piano d'appoggio e tappo d'imbarco del serbatoio dell'acqua ma opzionalmente è possibile richiedere qualsiasi tipologia di piano cottura. In basso c'è un comodo cassettino porta oggetti qui a scomparsa mentre sul lato di dritta c'è un portello per accedere all'ispezione del motore del frigorifero oppure alloggiare la bombola o ancora di più aumentare lo spazio di stivaggio. E guardate qui anche la maniglia TNT bene che permette di restare sempre in sicurezza durante la navigazione perché abbiamo sempre un solido supporto mentre sul lato di sinistra c'è il frigorifero a carrello molto comodo per lasciare al fresco le bevande. Ci spostiamo in postazione di comando abbiamo una seduta con due schienali fissi e bolster separati in questo modo ogni persona può scegliere la tipologia di seduta che più preferisce in questo caso possiamo averla in modalità appoggiareni in questo caso lo abbiamo fisso ma è possibile inclinarlo anche a 45 gradi per avere maggior supporto oppure utilizzarlo in modalità seduta tradizionale. In questo modo quando sono al comando vedo che ho i piedi ben puntati sul gradino strutturale qui in basso ho il timone ben raggiungibile davanti a me guardate in questo caso sono in modalità seduta tradizionale ma è possibile tranquillamente governare sia a 45 gradi in questo caso vedete con il bolster inclinato che in modalità tradizionale con il supporto per la schiena quindi nessun problema per la postazione di comando qui c'è la predisposizione per la manetta di potenza interruttori on off sono disposti su un unico livello e il resto della plancia è totalmente personalizzabile secondo le esigenze e guardate qui anche l'ampiezza perché la console arriva all'altezza delle mie spalle e il parabrezza riesce a coprirmi interamente fino oltre la mia testa quindi siamo sempre ben protetti dal vento frontale e abbiamo anche due generose maniglie tienti bene presenti su entrambi i lati non manca infine un comodo cassetto porta oggetti dove lasciare gli oggetti all'asciutto ci spostiamo verso prua guardate passa avanti comodo e uniforme nella sua larghezza quindi non abbiamo difficoltà di movimento il tubolare arriva all'altezza del mio ginocchio anche più in alto quindi siamo sempre ben protetti sono anche le maniglie che offrono maggior protezione che partono da centro scafo fino arrivare alla zona di prua e arriviamo quindi nella zona anteriore del cassero qui è ricavata una poltrona monoposto molto comoda con possibilità di sollevarlo frontalmente per avere accesso al vano interno guardate qui che ampiezza per la sua categoria vano totalmente contro stampato con doppio blu da un lato e dall'altro vc disposto verso poppa e c'è questo gradino per raggevolare l'ingresso perché l'altezza è davvero incredibile guardate qui riesco a stare comodamente in piedi altezza interna di un metro e settanta con possibilità anche di aggiungere una tenda nella porzione anteriore per poter avere maggior privacy e soprattutto maggior comfort non manca inoltre la possibilità di stivare il materiale guardate qui qui ci sono altre due scatole per indicare la maggior profondità del vano proprio per avere più spazio per lo stivaggio il prendisole di prua è totalmente rivestito di cuscini qui ci sono due gradini da un lato e dall'altro per agevolare l'accesso appunto al prendisole ed è gavonato al suo interno sollevandolo c'è un gavone piuttosto ampio dove alloggiare tutte le dotazioni di sicurezza e tutti gli oggetti che servono per le uscite quotidiane e guardate qui possiamo letteralmente passeggiare sul prendisole fino ad arrivare nella porzione anteriore qui c'è un portello che nasconde il berricello berricello con controllo remoto per permettere gli ancoraggi a prua ed è anche visibile dalla plancia di comando perché guardate una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra dal momento che è possibile ispezionare lo stato dell'ancora dall'occhio di cubia quindi passeggiando sul portello anteriore arriviamo al musone musone in vetroresina rivestito in eva foam anche lui come il resto del piano di calpestino del battello con galloccia centrale e il resto del ripiano è totalmente libero da ingombri in questo modo è molto più semplice salire e scendere quando si ormigge di prua e quindi cari amici questo è Little Boats Stinger 28 GT come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale youtube e alla pagina facebook lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate e come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The City Team